Allora, la GNA è un acido genetico evolutivo che compenetra dolcemente in forma, come se stai facendo un idromassaggio, compenetra il DNA e lo conquista, il DNA viene assorbito da questa genetica superiore, quindi perde il controllo della propria forza, perché c'è una forza superiore che lo domina e quindi oltre ad avere l'istinto di, il DNA, l'istinto di preservazione della vita, l'istinto di conservazione e difende la vita controllando il territorio, come gli animali, il cane alza e fa la pipì dappertutto perché si controlla e l'uomo è uguale, non ha nessuna differenza dal cane e dalla bestia, perché l'uomo ha l'intelligenza individuale? Perché potenzialmente può essere compenetrato dalla genetica superiore, però l'uomo la rifiuta, invece quelli che la accettano o quelli che nascono già provenienti da altri monti con la genetica, non sono solo istinto di preservazione, controllo del territorio, già l'hanno perso, perché hanno una formazione genetica spirituale planetaria, cioè noi siamo una famiglia mondiale, noi siamo una società mondiale, noi siamo una società che appartiene alla confederazione universale, cioè noi non abbiamo nessun territorio, noi conosciamo la forza del creatore, i soli sono, questa è la genetica DNA, cioè che vivono e provengono da una dimensione che la DNA non contempla, come fai tu a spiegargli alla tigre o al gatto domestico a casa, sai, noi adesso facciamo un viaggio e andiamo sulla luna, miau, sai tesoro, noi adesso abbiamo trovato e scoperto la composizione chimica per poter avere un carburante e arrivare su Marte, lo sai, miau, noi siamo miau, genetica DNA, però questo miau può evolversi se è ubbidiente. Quindi predisporsi? Certo, se è ubbidiente che cosa succede a noi a differenza del gatto? Se noi diciamo sì signore, sì certo che è bello, che ci aumentano il quotiente intellettivo e quindi dal miau passiamo, ho capito, ho capito, diciamo posso farlo con te? Quindi facciamo il salto dall'anima collettiva, diventiamo esseri individuali, ma se noi diciamo no, ma chi sono questi ufi? Io qua ho il territorio, chi viene qua ci sparo, ecco, quello rifiuta la genetica DNA e quindi finché si controlla il territorio o comunque rimane nell'istinto di preservazione naturale della vita, lo lasciamo fare, ma se lui aggredisce gli altri, vuole distruggere gli altri, addirittura il pianeta, noi lo eliminiamo, lo annentiamo e ricostruiamo una nuova civiltà. Quindi la DNA, secondo i parametri attuali della indagine scientifica, è identificabile anche attraverso un'analisi genica o solo… Ma ci hanno provato i russi e gli americani ai servizi segreti quando hanno trovato questi bambini negli anni 60-70 e gli extraterrestri hanno lasciato che alcuni esseri si incarnassero e diventassero dei geni, quindi a 4 anni diplomati di pianoforte, a 5 anni erano… a 8 anni laureati in fisica, cose assurde, incredibili, c'è la scienza infusa e i russi e anche gli americani, come sai, i servizi segreti, anche con sperimentazioni assurde, hanno cercato di trovare nel loro cervello quello che noi non avevamo e che cosa hanno trovato? Niente. Quindi la Russia si è specializzata e ha capito con umiltà che non era un problema solo cerebrale, c'era qualcosa in più e ha cominciato a studiare la percezione extrasensoriale, studiando lei ha raggiunto risultati straordinari, tant'è vero come sai in Russia io e noi siamo stati accolti a braccia aperte, perché io sono andato a portare questi discorsi che loro li avevano raggiunti su un altro… io dagli extraterrestri sono stato fortunato, loro dai loro studi 20 ore al giorno hanno raggiunto lo stesso risultato, cioè che c'è un'entità superiore che vive dentro di noi che si chiama intelligenza, spirito, se entra in contatto con le forme cosmiche il nostro cervello aumenta il quotiente intellettivo da 2 a 4, a 8, a 10, a 20 e quindi diventiamo dei quello che diceva Gesù. E poi siccome volevano usare questi soggetti come forse militari, gli extraterrestri non hanno fatto più nascere a nessuno e hanno fatto perdere quelle capacità intellettive a quei geni che sono diventati geni ma si sono fermati. Adesso ne vediamo, ogni tanto vedo su internet qualche bambino a 4 anni che già suona Mozart, ecco quelli continuano a venire ma molto di rado e si incarnano in famiglie che sono vicine a noi in un certo senso. In un certo qual modo, quindi questa genetica di cui tu parli che porta questi valori universali, se su altri campi si è fermata appunto per non dar luogo a questi discorsi che potevano anche entrare in un ambito strategico militare, secondo quello che tu divulghi si è come focalizzata solo nell'aspetto della lotta sociale e della denuncia contro i mari del mondo. No, non solo su questo. Principalmente? Ma guarda, io sono convinto che gli Our Voice sono tutti GNA. Beh, fanno lotta sociale. E gli Our Voice è capitanati da Sonietta che a mio giudizio ovviamente è una cosa, vi assicuro, credetemi che non ne parlo nemmeno con lei, perché non voglio condizionare affatto la sua missione, però non posso nemmeno nascondere la verità, cioè questo processo, questo programma che Sonia espleta con i giovani viene dai geni solari, cioè da quelli che vogliono innestare sulla Terra una nuova genetica, quindi tutti i giovani che si avvicinano ad Our Voice, quelli che si devono avvicinare perché ci sono altri giovani che non c'entrano niente con Our Voice e sono GNA, ma che sono scienziati, che sono ricercatori, però c'è questo settore dell'umanità di giovani capitanati da questa creatura che ha il compito di risvegliare i ragazzi ai valori universali della giustizia e non ci deve essere religione che condizioni, se c'è la fede è rispettata, ma non è la condizione sine qua non per far parte del movimento, questo è proprio quello che propagano e rappresentano gli extraterrestri, il messaggio universale, loro non ne hanno religioni, cioè loro stimano, amano, adorano Cristo, ma loro non interessa la religione cattolica, musulmana, che loro, la loro religione ama il prossimo tu come te stesso e come Dio hanno la scienza, la scienza dello spirito, non hanno bisogno di, come noi e ci rispettano, rispettano anche me che io mi inginocchio di fronte alla Santa Madre, all'estato, loro rispettano in un modo, in un modo veramente quasi di devozione la mia, o la forma mentis della mia famiglia, dei miei figli, il misticismo, però loro contemplano l'università, l'universalità della vita, infatti per questo sono assolutamente convinto che il movimento Our Voice è una rappresentazione fisica della volontà extraterrestre, che vuole difendere, lo ha detto prima Sonietta, tutto ciò che si muove è vita, quindi loro se c'è un omosessuale che viene, viene emarginato, lo difendono, viva la omosessualità, provocando ovviamente non nel concetto di base che sappiamo, noi ci sentiamo uomini e donne, ma nel concetto di discriminazione di vita, tutto ciò che è vita va difeso, dice la Confederazione. Ora, siccome siamo in una situazione dove qua c'è morte ovunque, c'è discriminazione ovunque, quindi un grande squilibrio, un grande squilibrio, ecco che c'è il movimento tra virgolette extraterrestre degli Our Voice che difendono tutto, l'omosessuale e la escort, la prostituta e l'ultimo degli uomini, quello senza voce, perché? Perché ovviamente difendono i giusti, difendono chi crede in Cristo e viene perseguitato, chi crede in Allah e viene perseguitato, cioè tutto ciò che è in giustizia questo movimento giovanile lo rappresenta e sono gli E.T., gli alieni, insomma gli esseri di luce che infondono nella testa di questi ragazzi la difesa della vita senza sé e senza ma.